Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro questo super pacco da parte dell'azienda Duracell che va a mostrare la tecnologia Baby Secure adesso vi mostro all'interno cosa c'è allora partiamo subito da questo simpatico peluche Duracell con la batteria dietro qui abbiamo dei gadget che sono due portachiavi con il getto Duracell poi queste caramelle perché vi spiego in particolare ci sono queste batterie ovvero 2025, 2032 e 2016 che sono praticamente pericolosi per i bambini perché comunque oggigiorno queste batterie le troviamo sia sulla bilancia, sul telecomando insomma dappertutto e quindi praticamente queste batterie sono molto pericolose per i bambini perché si possono andare ad incastrare nell'esufago del bambino e quindi Duracell ha progettato questa tecnologia Baby Secure ovvero la prima è che è impossibile andare ad aprire queste batterie perché comunque ci vogliono soltanto delle forbici che può usare un adulto quindi a mani nude è impossibile da aprire e poi c'è una sostanza che si chiama Beatrix all'interno di queste batterie che il bambino andando ad assaggiare questa sostanza va a rigettare completamente la batteria all'interno della bocca perché comunque ha un sapore amaro e disgustoso infatti qui mi ho inviato le striscette di Beatrix per appunto assaggiarle e poter vedere appunto che ha una sostanza amara infatti mi hanno regalato anche delle caramelle perché una volta provato si può andare ad addolcire con una caramella è appunto verificare che questo Beatrix è una sostanza amare che comunque i bambini non vanno a mettere in bocca la batteria perché la trovano disgustosa e quindi ragazzi vi invito a chi ha dei bambini di comprare queste batterie Duracell da 2032, 2025 e 2016 con questa tecnologia Baby Secure che appunto va a proteggere i nostri bambini da questo pericolo delle batterie ringrazio ancora l'azienda Duracell per tutti questi gadget e vi invito ad acquistare la tecnologia Baby Secure delle batterie Duracell questo processo è un fuoco bene la dove stia ungefedibile e tomar come